E' un figlio. Avevo una famiglia. Una moglie. E' un figlio. Li ho seppelliti insieme a tutti coloro che conoscevo. E' un figlio. Tchè! E lo chiami duello? No! Lo chiamo perdere un duello, Globe! Qui, qui, eh? Va bene, io mi metto qui. Facciamo in fretta. Perderà la testa. Ammetto che l'idea viene. Acceca tutti i suoi occhi, e la bestia non ti vedrà. Non ti vedrà. No. 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 No! No. Ho sentito qualcosa. Stavolta tocca alla tua testa. Sono settimane che non c'è l'esecuzione. Non puoi giustiziare Ratma che sono perché ti annoi. Chi lo dice? L'altro arciere morto. Ne resta solo uno. Cosa sia? Il secondo. Non so cosa è stato. Probabilmente no. Beh, se era qualcosa, sarà meglio stare alla larga. Fai taccetto. Ma lui? Non dovrebbero parlare di Nino. Faccia! Questi vermi non sono meglio dei Tark come te. Mostrerò a tutti quanto poco valgano. Non dovrebbero parlare di Nino. Lascia in vita il Boyan. Lui sa cosa dobbiamo fare. Fate attenzione ai suoi trucchi! Sbattete la terra! Sbattete la terra! Sbattete la terra! Ramingo! Questo sì che è un lavoro di squadra, eh? Vai, prima che io cambi idea. È il nostro accordo. L'accordo finisce qui. Boh, se insisti, ma pensavo che... Vabbè. Aspetta. Aspetta, Ramingo! Guarda! Quando il comandante saprà della mia vittoria, mi vorrà come guardia del corpo. E io cosa ci guadagno? Un traditore è sempre utile. Io mi occuperò di uno dei comandanti e tu uccidi gli altri quattro da solo. Poi ci rincontreremo al campo di addestramento. Farò in modo che il comandante sia... quando tu sei pronto. Che ne dici? Fa in modo di tenerti la testa sul collo stavolta. Ma certo! Cioè, è il mio piano. Torchi. Rathbug Rathbug ci ha fatto scalare le gerarchie senza pensare al pericolo. possiede un'inclinazione naturale al fallimento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!